Ciao, sono Cristian Lensi e lei è Europa. Ho da poco scritto questo libro, I segreti dell'immunità, e oggi volevo parlarvi dell'automedicazione, che è un tema che riguarda sia Europa che i suoi micicani, ma tante altre specie animali. Infatti è un sistema molto efficace per evitare che parassitosi, quindi problemi a livello intestinale, possano diventare seri. E quindi cosa fanno gli animali come Europa? Utilizzano erbe, utilizzano prodotti vegetali, proprio per evitare che il parassita crei danni. Quindi meccanicamente, ad esempio, grandi foglie possono rimuovere dall'intestino il parassita, oppure sostanze vegetali possono aiutare ad eliminarlo.